Senatore, tocca a lei concludere Raffaele Lauro, segretario generale di un'impresa, per le conclusioni di questo convegno. Applausi. Ad oggi ci sono stati eventi drammatici nella storia dell'umanità, anche a carattere pandemico. Io ricordo a tutti da Sorrentino, quando la mia città fu saccheggiata dai turchi di Solimano il Magnifico. Con centoventi galee venute da Istanbul, Sorrento ne uscì bruciata, distrutta, depauperata nelle braccia di lavoro che coltivavano i giardini, le colline e rendevano ridente il mio paese già dal XVI secolo. In una sola giornata, in una sola notte, il 13 giugno 1558, Sorrento uscì distrutta. Sembrava impossibile che quella città si potesse ricostruire. Sembrava impossibile come nei grandi drammatici eventi della storia dell'umanità. Le guerre, le due guerre mondiali, milioni di morti, generazioni intere distrutte. Eppure, eppure, la reazione alla fine dell'uomo, la sua volontà, il suo coraggio, la sua determinazione, la sua resistenza, hanno avuto la meglio. Se pensate come le nazioni europee sono uscite urbanisticamente nel fattore umano, distrutte dalla seconda guerra mondiale, non potete immaginare oggi che ci si arrenda di fronte a un virus proveniente da un laboratorio cinese o dal mercato delle carni, degli animali selvatici. Non ci si può arrendere. Direttore Finucci, lei ha detto che questo convegno è un atto di coraggio. Sì, è un atto di coraggio. Ma è un atto di coraggio che si basa appunto su questa visione dell'uomo, su questa visione dell'uomo mondo, su questa visione della storia. E sul fatto che tra poco ce l'auguriamo, come un piccolo virus ha messo in ginocchio l'economia mondiale e ha determinato e determinerà nuovi equilibri geopolitici, che è un fattore che non viene mai sottolineato abbastanza, bene, l'uomo con la sua scoperta, la sua invenzione, tra un mese, due mesi, quattro mesi, cinque mesi, sei mesi, ma determinerà una nuova grande svolta nella storia dell'umanità. Un nuovo assetto geopolitico, un nuovo equilibrio macroeconomico, la stessa globalizzazione dovrà fare i conti con i nuovi equilibri e con gli sviluppi economici futuri. Quindi, perché dobbiamo essere così depressi, dottor Sallustri? Non possiamo, noi non possiamo sconfiggere noi stessi con una depressione di massa che riguardi non solo le persone, le famiglie, i bambini, ma riguarda l'impresa, gli imprenditori, che come hanno sottolineato i grandi economisti dello sviluppo, da Keynes in poi, il fattore psicologico è fondamentale non solo nella volontà imprenditoriale, ma nello sviluppo, nel ciclo economico, nella possibilità che il ciclo economico passi da una depressione, da una recessione, è vero Politino, al nuovo sviluppo. Quindi, grazie direttore per questa moderazione di questo dibattito, un'impresa ha voluto dimostrare, nella sua modestia, nella sua limitatezza, ma nella sua forte volontà e nella sua determinazione, che non era il caso di arrendersi. e neppure di arrendersi di fronte a tutti i problemi strutturali del paese. Perché un'impresa non è stata tenera e non è tenera con questo governo o con i due governi che si sono succeduti in questa disgraziata legislatura. Però un'impresa non vuole far mancare un proprio contributo di idee, e un proprio contributo ad un rilancio psicologico. Perché noi potremmo avere nel giro di pochi mesi un'inversione di tendenza che porti a un nuovo grande sviluppo. Però, ci sono i però, però questo nuovo grande sviluppo non può ripetere gli errori del passato, dell'immediato presente, del passato prossimo, del passato remoto, del trapassato remoto. Perché le responsabilità strutturali che hanno reso ancora più grave nel nostro paese l'evento epidemico e i suoi effetti devastanti affondano le loro radici nelle responsabilità almeno dei governi di quest'ultimo trentenne. ne lo dice una persona come me che ha fatto parte non di quei governi, ma nei punti strategici delle decisioni governate. Perché possibilità di riforma sono state suggerite, sono state intuite in tempo. purtroppo la classe dirigente non è stata all'altezza del suo compito, anche quella dell'immediato passato. Quindi è inutile che ci stracciamo le vesti oggi rispetto alle incompetenze dei presenti. Perché i presenti e i incompetenti sono arrivati al potere per le responsabilità delle classi dirigenti del passato che non hanno fatto le riforme strutturate al tempo debito. La Presidente Ferrara ha toccato un argomento chiave citando un mio intervento recente sulla stampa. 20 anni senza una politica industriale. Direttore, ma può una potenza, la settima potenza economica del mondo che deve affrontare le sfide della globalizzazione non avere una politica industriale? Eppure, ma non mi cito, c'è stato chi al tempo debito a livello del governo e dei governi a proposto dei piani di politica industriale, cara Presidente, ma i governi non l'hanno approvato. Per gelosie tra ministri, gelosie tra ministri dell'economia e delle finanze, gelosie con il ministro dello sviluppo economico e il nostro Paese. Nel 2005-2006 se fosse passato un piano industriale che fu studiato da una commissione presso il MISE, il Ministero dello sviluppo economico, forse, forse, quei settori obsolescenti, specie nel mezzogiorno, avrebbero potuto avere un diverso recupero, gli incentivi avrebbero potuto avere un diverso, una diversa direzione verso i nuovi settori produttivi. Forse la digitalizzazione non sarebbe rimasta così arretrata. Questo era un piano di politica industriale. Ora possiamo chiedere al governo Conte 1, al governo Conte 2, con tutti i problemi che c'ha nella maggioranza, in due maggioranze spurie, una contro l'altra armata, con programmi incomprensibili e tra l'altro contraddittori, possiamo chiedere a questo governo una politica economica, una politica industriale, una politica fiscale, dottor Salustri. E no. Anche perché i quattro nemici delle piccole e medie imprese, i quattro nemici che assediano come un quadrilatero della morte le piccole e medie imprese, sono il fisco, dottor Salustri. il fisco è il primo mostro che assedia le piccole e medie imprese. un imprenditore non può fare una pianificazione finanziaria senza tener conto dei costi fiscali e finora non è stato in grado di poterlo fare perché il sistema era una giungla, perché il sistema era incomprensibile, perché lo stesso direttore delle entrate confessa che non esista un'Italia, un grande esperto, un professore, un commercialista che sia in grado di capire l'intero sistema fiscale italiano. l'ha detto il direttore delle entrate, non io, che è una giungla e come si entra in questa giungla? Come si atteggia un medio e piccolo imprenditore rispetto a questa giungla dove le modifiche vengono fatte addirittura o venivano fatte addirittura in corso d'anno? Come può fare un imprenditore a fare un piano finanziare se non sa quanto gli costa fiscalmente quel piano? Ed ecco il primo nemico del quadrilatero che assedia le imprese. E qui vorrei dire una cosa prima di abbandonare il tema. Il dottor Sallusti ha parlato dell'ultima intervista del ministro Gualtieri che ha annunciato il modello tedesco. Innanzitutto io pregherei per la stampa che è presente che il governo della Repubblica che si chiama così perché deve governare nel momento in cui decide di avviare un'azione riformatrice e affronta il tema della riforma fiscale. la prego signor ministro Gualtieri la prego signor presidente del consiglio la prego signor direttore delle entrate date annunci chiari alla gente e agli imprenditori ai cittadini dite quali sono i principi quali sono i criteri come volete riformare le imposte dirette e indirette anche senza scendere scendere nei dettagli ma fateci capire questo governo se ha una maggioranza o all'interno del governo un consenso nel poter annunciare i principi di una riforma fiscale non è possibile che ogni mattina si legga un annuncio ora sulle modifiche IVA ora sul per cassa rispetto ora sui modelli tedeschi ora sul modello anglosassone quindi prego il ministro Gualtieri di fare una sola intervista chiara che indichi i principi di una riforma fiscale che sia chiara equa comprensibile e leggibile da parte anche dell'ultimo dei cittadini come è nel sistema anglosassone è inutile che si annuncia di lottare l'evasione fiscale ma questa litania questo mantra direttore lo sentiamo da vent'anni potrei farvi l'elenco di tutti i ministri dell'economia e delle finanze che si sono succeduti in questi vent'anni ve li risparmio se no vi sentireste male i quali puntualmente ogni volta che bisognava captare qualche consenza annunciavano l'abbassamento delle tasse non metteremo le mani nelle tasche degli italiani no perché lotteremo l'evasione fiscale ora è vero che la guardia di finanza ha raggiunto pregevoli risultati ma l'evasione fiscale politino ce lo vogliamo dire al signor governo non si lotta con le sanzioni è solo con la guardia di finanza si lotta con un sistema finanziario equo equo che non stritoli i cittadini e le imprese chiaro che sia comprensibile perché gli stessi commercialisti alla fine non ci capiscono manco niente più loro o no e che sia accessibile a tutti se ci sarà una riforma di questo tipo vero presidente Longobardi vero presidente vero dottoressa bene non ci sarà bisogno di fare chissà quali varare chissà quali sanzioni contro l'evasione fiscale abolire i condoni abolire i rientri di capitale con percentuali risoria di pagamento su capitali enormi creare un sistema fiscale equo chiaro accessibile a tutti i cittadini italiani faranno il loro dovere gli imprenditori italiani faranno il loro dovere e allora sì che chi violerà queste norme come avviene nei paesi anglosassoni negli Stati Uniti o in Gran Bretagna o in Germania le sanzioni dovranno essere severe ma se lo Stato rimuove questo mostro che è il sistema fiscale signor ministro non è una giungla è un mostro un leviatano per dirlo in termini filosofici qual è l'altro l'altro punto l'altro del quadrilatro che assedia le piccole e medie imprese la giustizia civile e l'avvocato Spada ci ha parlato degli organici dei cancellieri dell'ignoranza greve dei giudici di pace della loro incompetenza costitutiva dove lei ha detto scrivono sentenze orrende ha usato questo aggettivo sì ma oltre che essere orrende sono abnormi contraddittorie è come se io pensassi di affidare con tutto rispetto dei salumieri a un salumiere di redigere una sentenza magari nelle antiche organizzazioni precivili c'era il conte il quale a naso amministrava la giustizia le lotte tra i confinanti le terre e così via quindi avvocato carissimo lei ha ragione c'è un problema di organici c'è un problema di organizzazione c'è un problema di incompetenza c'è un problema di separazione delle carriere la domanda che le ha fatto il direttore è calzantissima poi c'è un problema di una riforma del CSM che vogliamo citare gli scandali attuali che non sapevamo tutti come si fa carriera nella magistratura a meno come si faceva se non eri legato ad una determinata cordata abbiamo sentito tutti quello che accadeva ma questo non deve essere una sorpresa però avvocato mi scusi dobbiamo però anche parlare degli incarichi extragiudiziali dei magistrati questo è un nodo direttore che nessuno vuol toccare fermo restanza che la maggioranza dei magistrati agisce con onestà trasparenza eccetera l'abnorme massa ora di incarichi stragiudiziali pagati profumatamente magari giustamente ma vi pare che insieme alla separazione delle carriere non ci sia anche questo problema nessuno ne parla tutti hanno paura e allora se mi permettete in nome di un'impresa sommessamente vorrei suggerire al ministro di grazia e giustizia di rivedere attentamente il disegno di legge che è stato presentato dal governo nel gennaio di quest'anno per la riforma della giustizia civile ci vogliono gli organici la digitalizzazione la formazione la preparazione la chiusura degli incarichi giudiziali il non ritorno nella carriera della magistratura dopo aver fatto quella politica ma queste cose ne lo vuol dire nessuno hanno tutti timore di affrontare la verità e abbiamo anche politino sistemato il problema ora veniamo alle banche che mica che sono un problema da poco il sistema bancario tu hai toccato una cosa che è letteralmente scandalosa che un'impresa ha sottolineato in interventi e comunicati pubblici però qui dobbiamo chiamare alla responsabilità il governo Conte 2 e come sono stati scritti male i decreti economici decreto 1 il decreto 2 il decreto 3 il decreto 4 marzo aprile maggio giugno ma può un governo ve lo chiedo inserire una norma nella quale dice che lo Stato presta le garanzie lo Stato non la compagnia della Trinità lo Stato questo farebbe tremare le vene di Luigi XIV le tasse muove lo Stato garantisce i prestiti al 100% al 90% al 80% i poveri imprenditori piccoli e medi vanno nelle banche e il direttore che ha naturalmente il direttore della filiale non si assume personalmente ha istruzioni alla direzione generale e dice che no non basta la garanzia dello Stato ma ci vogliono garanzie patrimoniali immobiliari per avere quel prestito anche di 25 mila euro ma la domanda non è questa reazione del sistema bancario italiano che anch'esso fa parte dei problemi non risolti il nostro sistema bancario è appesantito non è organizzato bene e nonostante le concentrazioni ancora a naspa è vero Polidino o sto dicendo delle sciocchezze enorme bene ma il governo quelli che hanno scritto questa norma e mi fermo solo a questo argomento perché altrimenti la dottoressa Maria Grazia Lupo Arbero comincia a picchiarmi con gli occhi che vado oltre i miei 50 minuti no non temete mi fermo prima il presidente del consiglio dei ministri grande avvocato civilista prima di far scrivere quella norma sulle garanzie dello Stato ha convocato l'ABI ne hanno parlato hanno approfondito hanno scritto le norme così oserei dire un'espressione napoletana ma manco la voglio dire per rispetto alle signore presenti per cui i quattro decreti ritardi interventi a pioggia una 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 cassa integrazione che ora hanno riconosciuto anche il governo che è completamente fallita e abbiamo sistemato anche presidente politino la parte che in breve naturalmente in breve perché se dovesse affrontare le problematiche infieri basterebbe solo pensare ad una banca che era una banca di un partito politico e che ora si trova nei travagli di passaggi e di controlli e arriviamo al presidente spadafora che guarda caso ha fatto un intervento il giorno dopo che l'unione europea la corte di ingiustizia dell'unione europea e questo direttore interessa anche anche il suo editore ha definito come non valida la golden share e quindi la messa in non cale della partecipazione di viventi a fine investa a media non il 9% ma riprendi il 29% quindi non si siedono per non votare ma si siedono per votare una rivoluzione che si e quindi la legge Gasparri fu fatta a protezione del gruppo Berlusconi del gruppo Mediaset Fininvest lo sappiamo tutti non è che è un segreto di Stato però è saltata quella protezione e nel momento in cui i viventi è contestualmente socia rilevante del gruppo Fininvest ed è un socio notevole come partecipazione della team nel momento che si deve determinare quello che sembrava tutto pacifico sembrava tutto già stabilito tutto come fare la rete unico che già si erano tutti spartiti i vari prospetti di potere bene arriva due righe della corte di giustizia europea pesco sappiamo tutti che ormai le TLC e il sistema radio televisivo sono ormai convergono non c'è più possibilità non c'è più possibilità neppure ai gruppi europei di resistere oggi alla potenza di Amazon di Netflix che con la sua produzione straordinaria ha stracciato innanzitutto il progetto premium di Mediaset lo ha nientificato quindi esprimo qui un augurio per non prendere ancora del tempo noi ci auguriamo presidenti di un'impresa che il governo nell'ambito dei piani che ha preparato e che deve presentare entro la metà ottobre in Europa per ottenere l'anticipo e poi i 208 9 miliardi di euro tra prestiti e contributi inserisca vorrei dire al ministro delle infrastrutture ma glielo dico con simpatia e affetto che invece di strologare sul ponte sullo stretto sul tunnel sotto lo stretto e lì ci sono problemi dell'unici mica da poco e ora anche sulla pista ciclabile sullo stretto ecco che si applicassero a presentare piani che portino ad una investendo decine di miliardi ad una digitalizzazione a tappeto della pubblica amministrazione intendendo per essi il colloquio tra le strutture informatiche ministeriali le regioni le ex province e i comuni quando io sono arrivato al ministero dell'interno venivo dalla direzione di una rivista prestigiosa di telecom Italia una rivista di ricerca scientifica che mi ha insegnato molto come direttore responsabile perché ascoltavo il comitato di redazioni che era fatto di grandi scienziati delle telecomunicazioni che ancora ricordo con tanto affetto io arrivai al ministero dell'interno e precipitai ai vertici del sistema degli interni da prefetto di prima classe nominato dal governo con questa diciamo background con questo know-how in sette anni avevo imparato pure io qualcosa dagli scienziati e io da allora cominciavo già a capire che cosa sarebbe stato il mondo digitale il web la posta elettronica i mobili il cellulare ci sono dei miei diciamo articoli di fondo della rivista che mi soccorrevano i tecnici nella scrittura che io dico cose che poi si sono verificate e che oggi sono sul tappeto ebbene arrivo al ministero dell'interno che ministero eccellente tra tutti possiamo possiamo strologare è vero dottore d'amore dove è stato ecco il ministero dell'interno aveva io naturalmente che ero l'ultimo arrivato faccio una riunione per capire quali erano le strutture informatiche del ministero e scopro che la direzione generale della sicurezza è in mano ad un determinato blocco ad una determinata multinazionale la direzione del personale ad un altro l'altro Francia Germania Stati Uniti il dottor Spadapola ride però evidentemente ragioni di equilibri politici intereuropei avevano suggerito ma la mia domanda fu da ignorante ma queste strutture informate colloquino tra di loro no questa esperienza mi è servita a dire oggi a voi e mi avvia la conclusione dire a voi il problema della digitalizzazione presidente Spadola il problema è proprio del colloquio delle infrastrutture informate è vero che la rete unica a banda larga eccetera risolverebbe tutti i problemi ma il problema di fondo è che tutti gli enti pubblici dallo Stato centrale alle regioni perché anche le regioni hanno fatto come al ministro dell'interno ognuno si è fatta che so forse per amicizie per simpatie politiche ma che ne so io mi pongo quest'interrogativa avvocato Spadola lei sa che sono retorici vero? beh grazie allora eccoci qua il quadrilatero che assedia le piccole e medie imprese il quadrilatero che può soffocare le piccole e medie imprese quindi noi di un'impresa auspichiamo anche dopo questo convegno coraggioso propositivo che il governo faccia veramente le riforme avvivamente le riforme che il ministro dell'economia e delle finanze ci dica ci faccia capire quali sono i principi della nuova riforma fiscale che il ministro della giustizia ci aiuti a capire se il governo proporrà emendamenti al disegno di legge già l'attenzione del Parlamento che non risolve niente e naturalmente per il sistema fiscale per il sistema bancario il problema è più complicato perché ci troviamo di fronte ad una concorrenza straniere che porterà a ulteriori concentrazioni e quindi speriamo che con le concentrazioni e con la digitalizzazione anche se si porrà un problema di esubero di persone addette al settore bancario non un problema secondario un problema serio ma questo processo è irreversibile è ineluttabile a meno che noi non ci vogliamo trasformare da paese industriale manifatturiero che trasforma le materie prime vi aggiunge valore creatività e ne fa il segno e l'identità del suo sistema economico cioè il made in Italy se vogliamo abbandonare questo noi siamo fuori diventeremo una colonia non so di chi anche perché il turco erede di Solimano che bruciò la mia città di Sorrento nel 1558 già comincia a premere alle porte del Mediterraneo scusi direttore questi lanci geopolitici noi di un'impresa oggi crediamo nei nostri limiti con le nostre possibilità di aver dato un segnale al governo proprio su questi quattro punti basilari perché un'impresa aveva già gettato l'allarme su un pericolo di desertificazione del tessuto produttivo delle piccole e medie imprese un'impresa aveva lanciato l'allarme che in questo autunno potrebbero soccombere e uscire dal mercato addirittura il 50% con tutto rispetto parlando visto che un'impresa è una cugina povera mentre lo studio Ambrosetti è il cuore del mondo a Cernobbio non abbiamo aspettato Cernobbio e lo studio Ambrosetti pregevole che ha detto che le piccole e medie imprese anzi le imprese nel loro insieme potrebbero soccombere nella misura del 30% voi pensate quale disastro nel momento in cui il governo non ha puntato sugli investimenti produttivi ma soltanto su misure emergenziali che avevano una logica ma se contestualmente la logica emergenziale dei bonus delle mancette poteva essere accompagnata da investimenti perché non puoi fare una misura delle mancette permanentemente senza pensare agli investimenti perché nel momento in cui poi crollano tutte le misure di sostegno al lavoro e alle imprese anche con le mancette noi ci troveremo con uno sdebito pubblico come è stato annunziato spaventoso senza avere più risorse per dare le mancette senza avere più risorse per fare investimenti che portino quel valore aggiunto quella crescita perché signori la filosofia di un'impresa è che senza crescita reale le manovre finanziarie non servono a niente il paese deve crescere realmente deve produrre trasformare con la creatività propria italiana e questo l'augurio è il nostro dovere l'abbiamo fatto altrimenti le imprese o falliranno o diventeranno preda della criminalità organizzata non ce la dimentichiamo vero lo dico agli amici del ministero dell'interno e della sicurezza presenti perché già circolano le valigie piene di contante derivante dallo spaccio degli stupefacenti dal gioco d'azzardo dalla prostituzione già girano con le valigiette in mano di soldi le organizzazioni criminali che non sono più del mezzogiorno si sono internazionalizzate che stanno a nord al centro al sud all'est o vittime dei predatori esteri abbiamo illustrato in un documento dell'un'impresa quali sono le tattiche attraverso le quali i cinesi in particolare offrono di dare contributi significativi alle imprese in difficoltà specie del nord italiano compartecipando al know-how creando una società in Cina facendola poi fallire riacquistandolo con altre società senza la partecipazione italiana abbiamo analizzato questi passaggi che sono spaventosi e alcuni sono in atto vogliamo signor governo signor presidente del consiglio signori ministri che il tessuto più prezioso del sistema economico produttivo italiano sia condannato vogliamo perdere questa che era la grande medaglia d'oro il made in Italy la creatività la moda il lusso vogliamo perdere ci ascolterete lo dica ai giornalisti presenti ci ascolterà il governo o sarà sordo come in passato grazie a tutti